Nel comune di Mondolfo una serie di cantieri di lavori pubblici si sono rimessi in moto nella fase 2. Importanti opere strutturali e di riqualificazione urbana sono in via di completamento. Sul lungomare si sta realizzando la frazione della ciclabile Fano Marotta Senigallia all'interno dell'ambizioso progetto della ciclovia adriatica, grazie alla quale le due province, quella di Pesaro e quella di Ancona, verranno unite in nome della mobilità sostenibile, inoltre per un importo lavori di 428 mila euro di cui 128 milo di provenienza comunale. All'insegna della mobilità sostenibile anche un altro cantiere, quello per la realizzazione della ciclabile che collegherà il popoloso quartiere di Piano Marina a Marotta Centro, un tratto quasi di un chilometro che si innesta su un altro troncone consentendo così a ciclisti e pedoni di usufruire di un unico tracciato che li porterà nel cuore di Viale Europa. Due interventi molto importanti che vanno nella direzione della mobilità sostenibile, vogliamo arrivare pronti per la stagione estiva nonostante il momento difficile, sono interventi che erano richiesti da tempo. Per quanto riguarda il lungomare di Marotta Nord, adesso sono in corso degli interventi di asfaltatura del lungomare, abbiamo realizzato la pavimentazione, la nuova pavimentazione della ciclabile e poi sistemeremo i muretti, abbiamo posizionato nuove alberature, faremo poi la segnaletica orizzontale e verticale, quindi davvero tanti interventi nelle prossime settimane. Adesso siamo in costante contatto con gli operatori turistici, balneari, titolari di bar e ristoranti per fare in modo che vengano rispettate tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza sanitaria e sperando poi che ci siano delle aperture negli spostamenti tra regioni.